ciao federico ben trovato a roma di passaggio senti se dovesse vincere le presidenziali donald trump potrebbe cambiare qualcosa sullo scenario della guerra in ucraina direi di sì perché lui ce lo ha preannunciato insomma trump non ha mai avuto particolare simpatia per l'ucraina mentre ha molta simpatia per putin è decisamente scettico sull'utilità della nato fino al punto da auspicare un'uscita degli stati uniti dalla nato quindi sì sì non c'è dubbio che con trump gli eventi precipiterebbero verso una conclusione piuttosto veloce io credo forse però anche anche nel caso di una vittoria di biden io sento un vento isolazionista in america che non è solo quello della destra c'è anche un isolazionismo a sinistra e dovremmo forse cominciare a immaginare un mondo in cui l'america sarà meno presente putin ha detto che preferirebbe biden perché perché biden è più imprevedibile il problema con trump anche quando simpatizza con gli autocrati putin xi jinping e la cosiddetta teoria del folle del leader pazzo è una teoria che venne discussa dagli strateghi nei war games all'epoca di richard nixon cioè il fatto che ci ha considerato buone ragioni un egomaniaco narcisista impulsivo che non ascolta i consiglieri che disprezza gli esperti lo rende imprevedibile e nonostante tutta la simpatia che ciampa per lui putin non sa mai esattamente che cosa farà trump invece biden è un politico molto più tradizionale quindi più facile da prevedere questa è una delle ragioni tra l'altro per cui trump continua a dire la sua politica estera ha avuto maggiore successo non ci sono state guerre sotto trump ben due guerre e che guerre sotto biden grazie grazie federico ritorno in stronti